Lampada che si accende tirando la corda e poi si riaccende, eccola qua, lui è il mastro, io sono uno che capisce niente. Adesso tagliamo la corda per levare il bastone, il faro della serranda questo è, ecco, adesso cerchiamo di togliere il ruso, però non è che c'emmo tanto sfogo, eh no, questo dovrebbe agire lo sfogo su, però non c'è l'acqua, questo ragazzo non lo so, non so se, dovrebbe venire via così da solo, si eh, eh si dovrebbe, vedete, la lampada, se si vede qualcosa, ecco, esce, apre, esce, perché questa, ma è, il problema che questa mica esce, no, non c'è, non c'è, non c'è un spazio, come ce l'ho di mettere? No, come ce l'hanno messo, vedete, come ce l'hanno messo, come ce l'hanno messo? Ma quello non si leva, è ruolo, no? Eh no, che ce l'hai montato, questo è arrivato, non sto il massimo, sono più arto di così in cielo, Bloccarlo da qua questo è un po' di sfogo da quella parte, per poterlo convenire qua, ma a parte il fatto che non ce l'hanno messo, è proprio lo stesso ruolo, eh, però, quello sta già al massimo, è più l'hanno messo in cielo, tutto, sì, tutto a destra, laggiù in alto, e ne la fai, è uguale, è uguale, è uguale, no, questa la potremo smontare un attimo, però poi, da un po' la lampa, per un po' ce l'hanno indubiti, sì, che sta andando a sollevare, sta a far firme qua dietro, vabbè, ma ora, che ti piace? Eh, mi lavori. Dobbiamo finire ancora, voglia dei lavori. Stiamo mettendo il cintino alla molla, facendo attenzione a non farla srotolare, perché chi la sta mettendo si potrebbe far male. Esatto. E quindi ci deve stare molto attento. Esatto. È molto pericoloso. Esatto. Quindi, adesso, cacciavite, piccolo. Tu dovrebbero occhiare i più grossi. Eh, ecco fatto. Adesso inseriamo, bene, il tutto, mettiamo le sede, le vitarelle, eccole qua. Cacciavite. Ecco, una è andata, la seconda, pure. Eccola qui. Se andiamo a vedere dritta, è andata anche la seconda, una piccola stretta, per sicurezza. E adesso, proviamo il tutto. Ok, si tira su, a regge, regge. Senta, non arriva un pezzetto più su, però. Eh, va bene. Eh, va bene. Sarebbe che viene scesa un pochetto prima. No, anzi, ma meglio così, se va tutto tutto si incastra questa, visto poi non scende. Sì, poi prima l'ha fatto. Vabbè, va bene. Ah, va bene. Adesso, pare che va bene adesso. Lo togliamo, vedete che tutto va bene. E va tutto bene. Ok, signori, abbiamo fatto. Ah, parlo, parlo, tu, fai lo speaker, dai. Stiamo sostituendo il cintino alla tapparella che si è rotto. Ed è abbastanza facile per uno pratico e quello pratico sta sulla scala. Chi non è pratico lo sta guardando. Adesso stiamo inserendo la cinta che va legata al rullo. Eh, ora gli facciamo un bel nodo. Ora gli facciamo un bel nodo in modo che non viene via. Ecco il bel nodo. 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 E vai. Tiraggio. Tiraggio della corda. Bloccaggio. Allora, questa è con la seconda tutta giù. Bloccaggio della corda. Adesso togliamo la piastrina dove andrà messa la corda. qui c'è anche una bella molla dove bisogna fare attenzione che è pericolosa. No, poi scaricami. Adesso non è pericolosa perché mi sta dicendo il mastro che scarica. Bloccaggio della corda. Allora, non lo vedremo qua. Adesso togliamo questa rotta. E poi rimontiamo quella nuova di nuovo su questa molla. Adesso il principale sta montando dei gancetti che servono per tenere le cinghie. le cinghie. Ecco. Questi qui, in corrispondenza delle cinghie. Eccolo qua. Ecco fatto. Ecco fatto. Ecco fatto. Allora. Vediamo qua se funziona. Adesso rimettiamo le cinte nella loro sede. Sì. Sì. E' vero? Sto facendo sempre studiare come cazzo se blocca così così. Amma mia. Ecco. Adesso è una roba che aveva messo dentro e poi infilato. E' una roba. Ora ci siamo. E' famoso. Vabbè, vuoi pure sospendere poi gli attacchi eh. Sì, sì. Mi fa vedere che io perdevo tanto tempo. Sì.